La figura dell'amministratore di sostegno è stata creata con una legge dieci anni fa. Si tratta di un istituto molto importante che, se utilizzato correttamente, può fungere da strumento per prevenire truffe e raggiri ai danni di anziani o persone con limitata capacità di provvedere ai propri interessi. Agli abusi non c'è mai un limite. Possiamo prevenire e io penso che questo istituto consenta sicuramente una prevenzione. In Tribunale a Bolzano sono 1.800 le posizioni di amministratore di sostegno aperte. Nel solo 2014 sono state depositate mille richieste. Ma chi è l'amministratore di sostegno, la cui nomina può aspettare allo stesso beneficiario, in via preventiva, ai familiari o al Tribunale? È praticamente quella persona che sostiene, che aiuta una persona debole. Debole significa una persona non più capace di badare a se stesso sotto qualsiasi aspetto della vita quotidiana. Però ci rientrano non solo le persone anziane con un Alzheimer o con una demenza, ma ci rientrano anche tutte le dipendenze, tossicodipendenza, dipendenza del gioco. Forse può essere utile un esempio concreto. Abbiamo per esempio, per semplificare il caso concreto, di una ragazza di 22 anni, il padre della quale ha un tumore al cervello. L'unità sanitaria ha chiesto la nomina dell'amministratore di sostegno solo per la cura della persona, perché questo padre, giovane, figuriamoci la figlia, ne ha 22, questo padre non può più parlare e non è più cosciente. Oggi è stato firmato in Tribunale a Bolzano un importante protocollo d'intesa, elaborato di concerto dal Consiglio notarile, del capoluogo e dal Tribunale. Vuole servire a dar garanzia al cittadino affinché una persona possa, per un eventuale futuro, procedere alla nomina di un eventuale amministratore di sostegno, amministratore che poi viene registrato in un apposito registro cartaceo teleomatico, ottenuto presso il Consiglio notarile, di modo che, se un giorno o l'altro ci sia la richiesta al Tribunale di procedere alla nomina dell'amministratore di sostegno, il Tribunale può fare riferimento a questo registro e si vede che il signor, tal dei tali, anni prima aveva proceduto lui stesso a nominare una persona di sua fiducia. Grazie a tutti.